La fondazione Ronaldo Pomodoro a Milano apre il 2019 inaugurando un nuovo ciclo di Project Room affidato alla guest curator Cleo Eperone. Seguendo il percorso di rinnovamento tracciato a partire dal 2016, il comitato scientifico della fondazione ha nominato un curatore ospite a cui ha affidato il compito di individuare e segnalare tra figure rilevanti all'interno del panorama artistico internazionale a cui commissionare un intervento pensato per coinvolgere l'intero spazio espositivo. La Project Room numero 10 è dedicata dunque a Sofia Almaria con il progetto Mirror Cookie. Dal 14 marzo al 31 maggio 2019 l'artista cataro americana porta alla fondazione Naldo Pomodoro un'installazione composta da un video proiettato su uno schermo appoggiato su un boudoir immerso in una stanza circondata da specchi. L'installazione Mirror Cookie raccoglie una serie di cookies dell'attrice Byling riorganizzati in un monologo sconnesso che richiama la tecnica dello specchio, una pratica di rafforzamento dell'autostima, un'improvvisazione appassionata consegnata alla macchina da presa come se la quarta parete da batter fosse il proprio riflesso.